Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Le anime degli uomini. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Le persone sono amabili se lavorano con l'intento di realizzare quei sogni grandiosi, umili, con un degno e giusto progetto di vita. Quindi le anime degli uomini sanno donare fedeltà se agiscono con gli intenti di donare generosità. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Le anime degli uomini. Le persone sono amabili se lavorano con l'intento di realizzare sogni umili, con un degno e giusto progetto. Le anime degli uomini sanno donare fedeltà se agiscono con gli intenti di donare generosità. Le anime degli uomini sapranno offrire cordialità se con sante ispirazioni elargiranno santa carità. Le anime degli uomini sanno donare affetto e sanno essere amabili nel santo e sacro cospetto. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.